Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla ferma presa di posizione da parte del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Indice accusatorio puntato all'indirizzo della giunta comunale. Queste le dimissioni della sindaco e dell'intera giunta. I grillini bocciano in toto la linea amministrativa portata avanti da Messinese e dai suoi assessori. Vediamo. Bocciatura su tutti i fronti per l'amministrazione comunale di Gela da parte del Movimento 5 Stelle. I grillini chiedono le dimissioni del sindaco e degli assessori perché, dicono, possano prendere atto del fuoco negli animi dei cittadini, fiamme che loro stesso alimentano. In una nota il gruppo consigliare, tanto caro a Beppe Grillo, sottolinea che la tensostruttura di Marchetella brucia. I mezzi della Gelas bruciano. Marchetello brucia durante il mercato settimanale. Le auto dei cittadini continuano a bruciare. Gli ombrelloni cadono. Le strisce cambiano colore. La munnizza o brucia o viene usata nelle strade come una barricata nelle cinque giornate di scavone. Gesto incivile da condannare che offende soprattutto la gente per bene di quel quartiere. Questa giunta, ferita dalle sue stesse condotte, adesso fa la vittima, dicono i grillini, con qualcuno che parla di chissà quali regie occulte. Ma la verità è che non c'è nessuna regia. Nessuno in città destabilizza niente. Questa città sta semplicemente pagando la destabilizzazione politico-amministrativa nata dal fatto che nessuno ha mai votato Messinese, Siciliano, Salinitro, Morello, Abela, Catania e Di Francesco. Costoro, forse solo oggi, si accorgono che 22.000 gelesi hanno votato il Movimento 5 Stelle. Il cambiamento, un progetto, un'idea che oggi travolge la liturgia della politica che ci ha portato alla disperazione. Nessun gelese vuole questa giunta, ribadiscono i grillini. Prova ne è che in Consiglio Comunale nessun consigliere rischia di appoggiare apertamente un sindaco privo di programma e progetti. Il Movimento 5 Stelle di Gela, il meetup di cittadini gelesi, vengono traditi da questa giunta destabilizzante ogni giorno. Noi, dicono, stiamo senza se e senza ma, ma con la città civile, con chi vive oggi questo incubo, con la società migliore e con la democrazia rappresentata dal voto popolare. Per questa ragione, per l'ennesima volta, non possiamo che condannare le azioni della giunta e, come parte politica, ribadiscono come cittadini, continuiamo a chiedere le dimissioni del sindaco e degli assessori tutti. Operatori ecologici al lavoro senza dispositivi di protezione individuale, come maschere, respiratori e filtranti, ma non uso per proteggersi dagli agenti biologici e polveri. E quanto denunciano i consiglieri comunali di Reset 4.0, Luigi Di Dio e Francesca Caruso, che hanno presentato una interrogazione al sindaco per sapere come intende muoversi sul delicato tema della sicurezza sul lavoro. Spesso, dicono i due consiglieri, in questi giorni di emergenza rifiuti, abbiamo visto intere squadre di operatori della raccolta dei rifiuti per sanare e raccogliere i cumuli di spazzatura selvaggiamente diversati nella nostra città e in altre parti del territorio, come Manfria e Aerocazzelle, prive dei dispositivi di protezione individuale. I due consiglieri di Reset 4.0, nella loro interrogazione, ricordano al sindaco che, oltre a controllare che la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti pulisca la città in modo puntuale ed adeguato, così come prevede il capitolato d'appalto, controlli anche che la stessa ditta garantisca la tutela e la sicurezza dei suoi operatori. Sempre Di Dio e Caruso hanno chiesto all'amministrazione comunale un intervento nei pressi della zona adiacente alla scuola media Enrico Mattei, oramai divenuta una discarica a cielo aperto. E adesso occupiamoci dell'incontro che si è svolto ieri a Palermo sul tema delle dighe che insistono a Gela. Vediamo. Confronto a Palermo, all'Assemblea regionale siciliana, tra il sindaco di Gela, Domenico Versinese, il presidente della Commissione Ambiente, Mariella Maggio, il dirigente al servizio gestione infrastrutture del Dipartimento regionale Acqua, Francesco Greco, alla presenza dei deputati regionali Pino Federico e Giuseppe Arancio e Salvatore Gallo in rappresentanza del Consiglio Comunale. Si è parlato di dighe. Il primo cittadino gelese ha sottolineato che si sta lavorando ad un sistema integrato in riguo che mette in collegamento unico le dighe e le condotte in modo da assicurare al settore agricolo gli elementi indispensabili per continuare a produrre eccellenza nella nostra piana. Accolgo con soddisfazione aggiunto le rassicurazioni sui 20 milioni di euro stanziati dal Patto per il Sud a favore della diga di Sueri. Gli interventi strutturali previsti assicureranno stabilità al bacino grazie al consolidamento del costone e allo sfangamento dell'invaso in modo da ripristinarne il volume. Il progetto, che sarà redatto da tecnici della regione in collaborazione con alcune università italiane, ha spiegato ancora Messinese, potrebbe essere completo già agli inizi dell'anno prossimo. Altri interventi per 2 milioni e mezzo di euro sono previsti per la diga Comunelli. Consentiranno l'adeguamento dello scarico superficiale, il monitoraggio della struttura e la possibilità di aumentare l'attuale capacità di invaso del bacino. Infine, dopo anni di battaglie per la tutela del patrimonio naturale, abbiamo sollevato concretamente l'attenzione della Quarta Commissione a Lars sui interventi di sboscamento selvaggio che una ditta dell'Enese sta eseguendo a monte delle dighe per alimentare una centrale a biomasse. Queste azioni responsabili di abbattimento degli alberi, che contrastano l'erosione dei terreni, vanno ad insabbiare le dighe, ha aggiunto Messinese, vanificando gli interventi per ridare l'acqua alle campagne della Piana di Gela, oltre a violentare gli habitat naturali e l'ecosistema presente in questa zona incontaminata della Sicilia. La questione sarà al centro di un tavolo regionale che si inserirà anche per rivedere i dettagli della Convenzione e mettere in discussione tutte le irregolarità che si dovessero presentare. Per il deputato regionale del Partito Democratico, Giuseppe Arancio, per la prima volta si intravede uno spiraio nella nostra questione del completamento delle dighe di Sueri e Comunelli. Finalmente una luce in fondo al tunnel. Sono stati stabiliti i tempi della progettazione. Entro ottobre il progetto esecutivo è il visto della Commissione Opere Pubbliche e dentro l'inizio del nuovo anno la canterizzazione. Intanto si interverrà anche per il contenimento della collina limitrofa vista l'erosione che sta provocando il frenamento del terreno all'interno della stessa diga. L'intervento di contenimento, spiega, verrà prima possibile con piantumazione di nuovi alberi che contengano l'erosione. Per la diga Comunelli continua Peppe Arancio. È prevista la risagomatura dello scarico di superficie che permetterà di invasare un metro e mezzo in più dando ossigeno alle aziende che ricadono nel perimetro delle dighe. È stato discusso con i tecnici di interconnettere le due dighe. Entro la prossima settimana chiude il deputato regionale Arancio, un sopralluogo congiunto, dei tecnici dell'assessorato e di quelli del consorzio di bonifica ne verificherà la fattibilità. Si sono recati a Palermo per rifornirsi di stupefacenti da spacciare poi a Caltanissetta ma a loro ritorno ad attenderli c'erano gli uomini della squadra mobile. Arrestati nel corso nella notte in flagranza di reato, di detenzione ai fini di spaccio due coniugi nisseni, Andrea Bellomo di 41 anni e Marzia Rosina 39 anni, trovati in possesso di 10,1 grammi di eroina e 7,54 grammi di mannitolo. Marito e moglie tenuti sotto osservazione dei poliziotti con appositi servizi di appostamento sulla A19 sono stati fermati a bordo della loro Alfa Romeo intorno a lune e un quarto di notte sotto la loro abitazione del capoluogo non appena scesi dall'autovettura. Sottoposti a perquisizione personale gli agenti hanno rinvenuto nel reggiseno della donna un involucro di eroina del peso di 10,1 grammi, mentre nell'abitazione i poliziotti hanno trovato nel secondo cassetto di un mobile della cucina due bilancini di precisione, 7,45 grammi di mannitolo, un cutter con la mannerita, un pezzo di cellofan bianco taiuzzato utilizzato probabilmente per confezionare le dosi di subfacenti da spacciare, materiale tutto sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito Andrea Bellomo è stato condotto al malaspina mentre la moglie, ma in Marzia Rosina, gli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. I volontari della Fidas Adas di Gela, il presidente e alcuni componenti della dirigenza si recaranno sabato prossimo a Reggio Calabria per prendere parte alla decima edizione della traversata della solidarietà organizzata dalla Fidas nazionale in collaborazione con la Fidas Reggio Calabria e la Fidas Calabria. Domenica alle 18 numerosi donatori e volontari sotto lo sguardo vigile e attento degli atleti delle fiamme oro della polizia affronteranno le acque dello stretto partendo dalla sponda siciliana di Punta Faro per raggiungere avvicinandosi in una staffetta la riva di Cannitello a Villa San Giovanni. Tra coloro che compiranno l'impresa anche Rosario Savasta che già lo scorso anno ha rappresentato in mare l'associazione gelese assieme al presidente Enzo Emanuello. Scopo dell'iniziativa è certamente quello di sensibilizzare il maggior numero di persone nei confronti del valore della donazione del sangue. gesto anonimo, volontario e responsabile attraverso lo sport e quindi l'assunzione di corretti stili di vita. Il Movimento Giovanile San Francesco di Gela a conclusione delle attività estive del Grest 2016 ha organizzato per le serate del 30 e 31 luglio due spettacoli conclusivi. Sabato 30 luglio alle 21 in Piazza San Francesco si trarà lo spettacolo conclusivo della categoria Animation Group. 70 ragazzi di età compresa tra i 13 e 15 anni divisi in due squadre che ogni giovedì sera durante l'attività estiva del Grest si sono sfidati in discipline come canto e danza saranno giudicati da una giuria d'eccezione composta da una sezione tecnica e una sezione stampa affiancate da tutti i giurati che ogni giovedì hanno valutato le esibizioni dei ragazzi. Ospite d'eccezione e presidente di giuria sarà Cristian Imparato, vincitore della prima edizione di Io Canto, noto talent show di Canale 5. Lo scopo della sfida, oltre a quello di decretare la squadra vincitrice, è quello di far emergere le capacità e le attitudini dei ragazzi. Durante la serata di sabato verranno premiate le otto squadre che hanno partecipato al torneo di calcetto organizzato sempre nel contesto delle attività estive del Grest e che si è giocato al Campetto Gueri presso l'oratorio. Domenica 31 luglio alle 19 si celebrerà l'Eucaristia in Piazza San Francesco e a seguire intorno alle 21 inizierà lo spettacolo dei Grestini. La serata si concluderà con la musica che il DJ Graziano Lacognata selezionerà per tutti i ragazzi, bambini e genitori sempre in Piazza San Francesco. Per entrambe le serate è prevista la presenza dell'amministrazione comunale. E questa mattina è stato presentato il cartellone estirato per l'estate gelese. Sentiamo. Un calendario ricco di eventi, sono circa 90 eventi distribuiti in circa 50 giorni che vanno da luglio a settembre. La serata conclusiva sarà il 25 settembre, l'ultima domenica di settembre. È un calendario che viene effettuato con l'aiuto di tutte le associazioni locali che stanno collaborando con l'amministrazione per poter fare una grande estate se non con un nome magari di richiamo, però ci saranno tanti eventi davvero particolari e interessanti. Ci sono il Gelas Music Fest che ad esempio è un evento per giovani dove ci sono cover band di artisti importanti, ci sono altri spettacoli teatrali di grande livello per gli amanti come il Prometeo Incatenato o i Chrome Ensemble che per esempio faranno uno spettacolo che è davvero interessante sulle colonne sonore del cinema con la retroproiezione dei film, quelli più famosi, con le colonne sonore più importanti del cinema attuale. Oltre a Miss Italia, insomma, è veramente un calendario talmente ricco di eventi che non riesco a selezionare l'evento preferito che dovrebbe essere visionato. Io chiedo alla cittadinanza di partecipare a tutta l'estate. Un'estate a Gela è per dire che il nostro territorio offre oltre alle bellezze naturali come il mare, come il lago Biviere, le cicogne, le bellezze storiche, offre anche dei momenti ricreativi per chi ci viene a trovare. Quindi un calendario che si sviluppa fino a tutto il mese di agosto, settembre e gli ultimi giorni di luglio dove praticamente chi ci viene a trovare può passare magari una serata gradevole. È chiaro che il calendario è rivolto ai cialesi ma anche a chi è che vuole venire da fuori a venire a passare una bella serata nella città del Golfo. Domani alle 11 presso il Lido Parma Beach di Contrada Tenutella, la sede INAIL di Caltanessetta e la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Sicilia inaugureranno la stagione balneare estiva con una manifestazione di nuoto alla quale parteciperanno sia atleti paralimpici che olimpici ed una dimostrazione di tiro con l'arco curata dall'Aias di Gela. All'inaugurazione saranno presenti il direttore dell'INAIL di Caltanessetta Filippo Buscemi, il delegato della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Ninni Gambino, il presidente Aias di Gela Anna Maria Longo, i direttori sanitari dell'Aias Luigi Virone e Simonetta Incardona, il coordinatore terapisti Aias Giuseppe Timpanaro ed il consigliere federale Toto Mussoni, responsabile delle attività sportive dell'Aias di Gela. Sarà Toto Galanti, meglio conosciuto come professor Serafino, l'artista che si esibirà questa sera alle 22.30 in piazza dei Moretti a Machitella a Gela nell'ambito della rassegna Blues, Jets e Other Summer 2016 promossa da Salvatore e Fabio Vasta col patrocinio del comune. La direzione artistica è di Arianna Tremonti. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Gela festeggia San Sebastiano, il programma stilato dal parroco della chiesa di Settevarine Don Filippo Salerno prevede da domenica 31 luglio la Santa Messa, la chiusura del Grest, l'apertura dei festeggiamenti, appuntamento previsto per le 19.00. Una settimana di festa che culminerà sabato 6 agosto con la processione del simulacro. In piazza Faustina poi è prevista la benedizione con la reliquia del Santo. Quest'anno la festa di San Sebastiano assume un volto diverso in quanto abbiamo pensato anche come consiglio pastorale di voler dare una svolta un po' diversa degli anni precedenti. In che cosa consiste la novità? Consiste proprio dal fatto che il Santo Padre ci ha un po' introdotti quest'anno nell'anno della misericordia e quindi ci spinge a uscire. Questo ci ha fatto un po' riflettere dicendo che è giusto che noi come parrocchia cominciamo ad evangelizzare e andare porta a porta. Infatti quest'anno, proprio a cominciare già da ieri, abbiamo fatto il primo incontro nei quartieri dove passeremo per tutti i tre quartieri della nostra zona che sono i quartieri Marge, Albani-Rocella e Settefarini e a tutti e tre quartieri andremo porta a porta e porteremo questo messaggio che Gesù ci ama, quindi ci perdona e ci usa misericordia. Questo è il messaggio fondamentale che vogliamo diffondere a tutta la parrocchia. Però l'altra cosa più bella è che quest'anno i festeggiamenti non saranno praticamente fatti tutti in parrocchia, ma in parte perché i tre giorni del triduo noi li andremo a fare proprio nelle tre zone, quindi il giorno 3, il giorno 4 e il giorno 5 noi andremo nei quartieri, quindi la statua di San Sebastiano passerà ed entrerà nei vari quartieri e si fermerà e lì faremo delle catechesi, le testimonianze, il rosario, il vespero e poi la Santa Messa a concludere. Quindi il 3 nella zona Margi, il 4 poi nella zona Albani-Rocella e il 5 addirittura Poggio Blasco che è la parte finale della nostra parrocchia, la parte più lontana. e poi il giorno 6 che è sabato, quindi l'abbiamo anticipata al sabato a posto della domenica per dare la possibilità a tutti, in quanto in estate molta gente la domenica evade dai quartieri, abbiamo dato la possibilità di farlo il 6 questa festa. Quest'anno faremo la messa, una catechesi e poi faremo una breve processione nel quartiere di Settefarini. Questa sarà la festa perché dico si è voluto fare questo? Proprio per dire a tutti che non sono né i movimenti che si fanno all'esterno né le coreografie esterne che rendono bella una festa, ma soprattutto la parola che arriva nel cuore e soprattutto questa esperienza di Gesù che deve venire a illuminare la nostra vita e deve farci imitare la vita dei Santi. Proseguono le iniziative insalite nel cartellone l'estate giarese con la musica colta, promossa dall'associazione Amici della Musica Navarra di Gela col patrocinio del Comune. Domenica 31 luglio alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedettine è previsto il concerto lirico del trio Angela Curiale e Soprano, Francesco Cusumano Tenore e Giovanni Raddino Pianoforte. E ora parliamo di calcio. Prosegue a Zafferana e Tanea il ritiro precampionato del Gela. I giocatori sudano agli ordini del tecnico Totò Bruccoleri. Il mercato non è ancora chiuso, lo dice il direttore sportivo del club Giovanni Martello, si punta ad un campionato importante. Ma sentiamo proprio Martello ai nostri microfoni raggiunto a Zafferana e Tanea. Con quale spirito la squadra biancazzurra affronterà questo torneo molto impegnativo? E' chiaro e indubbio che dalla riforma dei campionati di Serie C, essendoci la Lega Pro unica, è chiaro che il campionato interregionale Serie D è diventata una mini C2. Quindi sicuramente andremo a affrontare un campionato molto ma molto difficile e impegnativo dove ci saranno delle piazze blasonate, come chiaramente lo è Gela, con società importanti, organici di tutto rispetto. Ma noi siamo convintissimi di poter fare bene, di poter divertirci e divertire soprattutto i nostri splendidi tifosi. Come ama dire il nostro Presidente, sicuramente non saremo dei comprimari. L'obiettivo è la salvezza oppure, diciamolo chiaramente, c'è qualcosa di più? Guardate, con il Presidente Tuccio parlare di salvezza è molto riduttivo. Noi vogliamo fare un buon campionato. Quanto questo buono sarà poi lo andremo vedendo cammin facendo. I programmi della società sono chiari, il Presidente ha l'ambizione di ritornare tra i professionisti, anche se non nell'immediato futuro, però stiamo costruendo la squadra per far sì che in un immediato futuro Gela possa ritornare sicuramente dove è stata e dove è stata in maniera degna. Lei diceva che state costruendo la squadra, dunque ancora è un cantiere aperto? La squadra è già a buon punto, sicuramente qualche altra cosa la dobbiamo fare, ma siccome non vogliamo sbagliare, vogliamo avere con noi gente di assoluto valore, stiamo attentamente valutando alcune situazioni per far sì che possa arrivare il meglio a Gela, chiaramente. Cosa manca alla fine? Cosa manca? Manca ancora qualcosina in difesa sicuramente perché siamo in numero ridotto e vorremmo sicuramente aggiungere qualcosa di importante lì dietro. Poi vedremo sicuramente qualche altra under arriverà, però siamo vigili sul mercato e abbiamo risposte molto positive dai ragazzi che stanno lavorando qui a Zafferano. Il volley Machitella a Gela si prepara a scendere in sabbia con un torneo di beach volley 4x4 in notturna. Sono 12 le squadre coinvolte e 48 le atlete del panorama gelese che si sfideranno per contendersi il primo posto di un torneo che vedrà la partecipazione femminile assestarsi al 50% delle presenze. L'iniziativa si terrà nei giorni 1, 2 e 3 agosto presso il Lido Be Cool Beach. E proseguono gli appuntamenti con Teatro Sotto le Stelle all'Arena all'aperto dell'Antidoto di Machitella a Gela. Domani alle 21.30 la compagnia teatrale La Svolta porterà in scena il marito di mio figlio. Il costo del biglietto, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Sabato 30 luglio, sempre alle 21.30, salirà sul palco Giobbe Covatta. In questo caso il biglietto costerà 10 euro. Lo ricordiamo, ci sono ancora numerosi posti disponibili. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito.